Siamo qui stasera, la città dei volontari, il grande lavoro di integrazione tra i ragazzi richiedenti asilo e volontari di Modena. Questa credo sia una delle cose più belle che ho conosciuto da quando sono diventata assessora, il vedere come ragazzi richiedenti asilo arrivati a Modena senza niente, con tanti problemi, che si danno da fare, sono stati circa 700, per dare una mano alla città. Infatti il titolo della pubblicazione che questa sera metteremo fuori è proprio la città dei volontari, quindi di città ce n'è una sola e dei volontari ce n'è un tipo solo, che sono i modenesi, di qualunque colore, di qualunque provenienza, cultura, religione, abitudini, eccetera. Secondo me questa è la cosa più straordinaria e mi piace segnalarlo come primo passo di quello che dovrebbe essere il nostro prossimo cammino, cioè il passare dalla fase dell'accoglienza, doverosa naturalmente, che cerchiamo di fare al meglio, alla fase dell'inclusione. Essere inclusi significa anche sentirsi cittadini a tal punto da dare il proprio contributo alla bellezza e al decoro della città e questo secondo me è davvero importante. Il progetto è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale e appunto il ruolo per cui siamo stati incaricati è quello di fare da collettore fra i vari cassi, i centri di accoglienza che gestiscono i richiedenti asilo e l'associazione di volontariato per favorire l'inserimento e l'inclusione sociale attraverso le attività di volontariato. Ovviamente le prospettive sono diverse rispetto a quando siamo partiti oltre due anni fa perché i ragazzi ormai sono qui stabilmente da diverso tempo e quindi si sono inseriti molto bene all'interno del tessuto dell'associativo e adesso ci piacerebbe sviluppare percorsi che favoriscano anche l'inserimento lavorativo. Con i quali dei contatti abbiamo fatto il Natale assieme a casa mia diciamo che sono cose che arricchiscono anche chi fa queste cose.